ma c'è DZ in disco? vuoi ricordarci come siamo vestiti? no no, in steam solo in steam? o di dire non superare la foresta non superate la foresta ragazzi io e Dico siamo fuori dalla foresta cioè siamo tra ok, mass è qua, mass è qua ci siete voi due? perfetto, ok, ci siamo ancora fermiamoci un attimo in sto foresta è dove sono secondo me Giambur nella casa quella là che diceva ah ok, ok, Carlo dice Masso che possono sono nella casa quella lì dove ci noi ci mettevamo a cecchinare la ricordi? sono lì secondo lui si si che me la ricordo potrebbero essere anche i palazzoni stanno andando avanti adesso ci aumentiamo il field of view e guardiamo adesso guarda non superiamo il fosso non passate il fosso non passate il fosso ecco l'ho visto? si si è vicino al polpo è vicino, è vicino state al riparo state al riparo ragazzi non muove state giù nel fosso voi due, voi due, voi due abbassati quelli di sinistra non c'ho il binocolo te lo do io Masso te lo do io Masso no stesso, lo stesso la Shasha c'ho la Long Minchia ah ce l'ho io il binocolo aspetta io non ho un binocolo se volete me lo chiedete a me per vedere da lontano Nico tu ce l'hai il binocolo? io non so se mi sfida ad andare in quella casa lì di arancione ma stai andiamo giù seguendo il fossato infatti io dicevo di fare il giro vedi quegli alberi qua arancioni in alto facciamo il giro esterno e appunto non quelli sotto e quelli dice Carlo di andare a scuola negli alberi lanciano di fronte a noi c'è sto età almeno voi potete stare se siete state tutti qua vado di fronte a dove siete voi voi siete voi voi siete lì e io sto qua che posso cercare e io lo vedo a casa dai sa ma sto va a vedere in quale casa dai quella lì no ma sto sta andando in campo aperto io stiamo andiamo 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 dai no 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 aspetta aspetta vado agli alberi lancieri vado agli alberi lancieri ci fiondo non è così però aspetta aspetta ormai vado qua c'è capo vado player a sinistra sta correndo a sinistra guardate sono io no in mezzo al campo qua il campo a sinistra ma se sol tu fuori c'è anche a sinistra oh chi che ha sparato nico credo chi è che lo è chi è questo qua chi è che sta sparando ah eccolo la lo vedo e corre giù verso la città ma chi è questo qua masso sei tu ma chi è che sta sparando maia masso che cosa è successo mosin mosin non è masso chi è che mi ha sparato ma non ci sto capendo più nulla ma questo qua è il player no ma chi è il player masso tu sei questo qua l'hai preso si eccolo qua ma dove stai sanguinando masso ah si adesso aspetta ma io qua non vedo nessuno qua c'è un player scusami un player è sdraiato là in fondo nell'erba vicino al cespuglio lo vedo gli di qua dove aspetta che mi vendo torno nel fossato non ci ho capito un cazzo io io sono nel fossato io non vi vedo più ci sto tornando a chi io sono in mezzo al campo io ho scaricato tre colpi e lo so uno ma non so che cazzo fosse non è masso magari si su me hai beccato me comunque no perché te stavi correndo a destra io ho beccato quello in mezzo al campo rasato zarnak mi vedi? zarnak mi senti? io sono questo qua ok ok dov'è il campo? dov'è il tipo che hai visto? allora guardami qua in mezzo campo rasato l'angolino qua davanti dritto quello che ho fatto io ok dritto a te si no cazzo aspetta però è richiede quel cadavano qua ci vuole giù che due pale sta fermo là jambu siamo tornati un attimo al fossato devo anche ricaricare come cazzo ci fa? ehm come si fa a indicare? eh non lo so F qualche cosa io sto facendo tutti i gesti del mondo jambu cosa è successo qui? ah ok eh praticamente massa ha ammazzato uno ma non lo vedo io era trasparente era balgato io dritto a me vedi dritto a me dove sono io no? si dritto nel prato giù in perpendicolare c'è un cespuglio rosso c'è un cespuglio rosso si la vede ecco lì sotto io ho visto uno che era lì però non so se erano loro che erano andati avanti o cosa? qualcuno è arrivato fin là in fondo che biglielo se l'aveva perché così è un carino beh vabbè via dai non riesco a prenderci niente sto qua ma è armato? si si c'è il Mosi però io ho finito di colpire SKS ma non riesco a prendere il coso ma non hai più il colpire di lsks 0? no però faccio a nascondere il corpo eh chi è quello lì nel boschetto? ah sai stai carlo c'è spuglio quello nel campo chi è adesso? io io ok sparate gli ha visto allora vai ragazzi ma dove era il tipo? era dove c'è massa adesso si era là in mezzo al campo all'incirca lì dice però io non lo vedevo e aveva il Mosi ma niente non mi dà la sua roba date sempre i movimenti ma lui c'è per terra? si io vedo tutta la sua roba tutto quindi se aveva il Mosi non è che già ho stato no quello che ho sparato non era lì eh era tutto di qua ah sopra sull'arco degli abbi rossi si però è il tipo poi è scappato giù lì ha tagliato no è scivolato boh nascosto il corpo via dividiamoci 3-2 zarnak vieni con me vai sulla destra voi loro tre vanno passiamo già a 3-2 eh ok perfetto ci dividiamo così eh siamo i 5 sai come no fatti ma la matematica non è un'opinione allora lo porto lo porto a vedere come abbiamo fatto il giro l'altra volta Carlo va bene dici la dalle tende eh più o meno si ok zombie allora noi andiamo a vedere un attimo le tende che ci sono qua zarnak eh poi ci ritroviamo ci ritroviamo quando resta attraverso tenete le armi in mano tenete le armi in mano infatti ma porca questo qua il diritto è il retro dell'aeroporto scusate per rimanchi oh c'è uno zoom che colpisce il vuoto c'è uno zoom che colpisce il vuoto dove è all'inizio di fianco al primo angara di fianco al primo angara vuol dire che qualcuno è sluggato o sta per nascere esatto fortunello ah si guardo là non sparate non sparate non sparate non si sa la vista ma non si può trattenere non si può trattenere se sta entrando uscente che cazzo è batte che cazzo traballa come non so cosa internazionare in cucina quanto hai detto che resta alle nove a te lungo questo perimetro è molto un po' è un po' oh ma c'è 5 minuti eh poi dove siete state correndo verso le tende stiamo andando a un stile verso elio 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 crash c'è un elio crash si c'è il fumo aspetta aspetta dove dove dovete restare il server dati verso la tua direzione per se non si è la fine della pista vedi che vuoi dalla pista di fronte ah si 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 a meno che non abbia entrato una granato poter spodre un camion si si è di sicuro non vedo fumoglio che cazzo l'elio guardi in fondo alla pista o guardi in cibo uuuh elio crash beach attenzione attento che potrebbero atti potremmo attiare il fuoco ma abbiamo poco questo tempo prima che restarti il server abbiamo quattro minuti magari trovi le mie quattro zarn anche adesso è molto pericoloso eh eh tanto non muoio da potrebbero sparare da un momento all'altro guarda dentro gli alghi se c'è qualcuno eh magari sono lì sdragliati giro i piedi non vedo nessuno sono lì sdragliati devo sparare un colpo io che schifo che schifo è che dopo questa se stai registrando allora non c'è un'emerita aspetta che c'è c'è un elmetto un elmetto c'è un elmetto c'è un m4 handguard degli occhi c'è un caricatore 40 round e 5,56 mm i colpi per il cos'è m4 vuoti un calcio per l'am4 tutto per l'am4 c'è ragazzi siete andati siamo all'elice 5,56 mm cos'è è per l'am4 un caricatore qua per te allora intanto non ci guardiamo in giro a vedere se anche guardando alle barracks nel fondo in la mira o qua dietro agli hangar magari sopra la torre radio c'è stato qualcuno eh così già direttamente evitiamo che qualcuno spari a jambù e compagnia ah perché questo fumo lì in eterno agli atti si si andiamo via vedo vedo gente da sull'elica eh siamo noi si siamo noi papà culo sto per inchiappettarti si poi ti inchiappetto io vengo a scorreggerti in casa dai 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 snugghiamo e snugghiamo ehm ripariamoci un attimo che raggiungiamoci te si io per te dalle barri dalle dalle stacopo ti ricordi dove c'hanno ucciso dove t'hanno ucciso che io sono ucciso qualcuno l'alle la mia che hai giudato l'angolo ce n'era si si me lo ricordo bene ehm tu hai ucciso lì in quel recinto eh esatto cacciatori non mi ricordo io ero cacciatore a prezzi guarda che ci sto correndo si 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 vede un altro elicorzio guarda che cazzo che c'è anche la smerch vest pak lì penso che magari riesco a cambiare più pochino cosa c'è la panza straica un bundle baffe dai dimmi cosa trovi dimmi che trovi granate dimmi che trovi granelle e trovi anche cocaina vai vai vediamo cosa c'è ci abbiamo uh smerch vest davvero si porca puttana ho visto io l'alto pezzo oh buona facciamo il il giubbotto più figo del mondo zarnak vieni zarnak vieni veloce 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 eh veloce un paio di voglioti non riusciamo manco a entrare c'è il mondo c'è il mondo aspetta spara di vetro anche spara di vetro spara 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 faccelo vedere faccelo vedere beh entro sparando faccelo vedere è qua è qua è che se aggiungiamo l'altro pezzo diventa un bestione eh ma ma scusami questo qua va va indossato oh è al posto del e si aggiunge l'altro pezzo aspetta voglio fammi vedere come viene che poi è l'antiproiettile degli hotford di arma 3 hotford va benissimo aspetta che mi prendo qua voglio vederlo poi nel caso se è godurioso io tengo la mia cosa ruined dove siete voi basta se sono questo sto merda di helicrash si ma in solito ci trova la racchia infatti non sono stati fortunati oh guarda qua c'è il cappellino da pompieri che è da da poliziotto infame c'è quel caricatore mamma mia che figata colpi quindi pm73 ma c'è il pm73 è la rack eccola aspetta è il caricatore fa vedere il caricatore è il caricatore bello ma lo prendo subito prendilo prendilo però è è raro trovare quella affare lì non ho mai trovato altra qualcuno oggi sarà una borraccia no no ce l'ho tiella tiella niente sborraccia dai facciamo tutti yangar si si in yangar ci sono il cks qualche zaino però ho saltato gli ultimi due io ho trovato i colpi dalla pistola mamma mia che figata adesso ci attacco qui l'affare voglio vedere come viene figo proprio eiaculo precocemente se muoio il cks cazzo trovare colpi sono i stati 62 quelli marroncini si cambia se puoi madonna mia che casino comunque adesso li trovi ci portiamo noi non so dove siete per cui siamo stivali ci sono siamo agli hangar eh se sti cazzi anch'io sono agli hangar ma non direi eh tu guardali tu guardali 5.5 a qualcuno sarà una colpi 5.56 no 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 ah per ame 4 beh sono quelli per ame 4 ma che ame 4 non troveremo 5.45 beh conta che anche ha il k101 però lì ah beh ho il k101 adesso comunque al massimo ritorniamo e abbiamo ancora le tende da vedere esatto le tende magari lascio un altro quanti stivali ci sono chi ha bisogno di scarpe è anche rapido di scarpe overheating ma no dai dai sks che lo vuole eh quello che dobbiamo andare a destra e' quello che dobbiamo andare a destra i cazzi io continuo incontrò i zumbi che mi saltano ma ce ne sono due dentro gli angeli sono spavolato dove siete rispetto a prima siamo a youngers siamo a morse ti raggiungo lì dai c'è hai i pietri raggiungo guardo un attimo no finalmente riesco a parlarti carlo pochettino riesco a parlare ma carola ovviamente non me ne faccio nulla perché eh ma carol io vedo degli hangar ma sono tutti in fondo a destra non sono quelli credo si quelli sono i due esterni noi siamo quelli altri cinque a sinistra per esempio per la pista in teoria c'è un'altra gente nel suo aeroporto per il momento no ma per ora no infatti dovevo anche sbrigarci perchè poi non è una posizione molto tattica allora ecco la tratta dei vestiti sarco adesso andiamo a prenderli qui non ci sono best e di là ci succede solo qualche zaino del resto io voglio direttamente la litenda il suo lavoro anche il gioco questo quel paradiso dell'endello suegge trovate il caricatore per la makarov hai trovato il caricatore per la makarov eh eh in un hangar c'è c'è l'affare che accade? che cazzo era lo smerch minchi che ho visto aspetta che lo devo trovare se li volete li prendo ce n'era uno mi pare dentro la prigione che cosa? caricatori no non abbiamo la makarov cioè io dopo magari ma ci riparto tu prendilo 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 è quello in cui sto andando io ora noi stiamo dentro un dormitore dentro c'è anche uno smerch backpack è quello che mi serve a me ma non trovo più il dormitore un caricatore per per la k si cazzo è adducta tape adhesivo per 10 round è lo scotch vediamo 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 oh ragazzi è il grandissimo momento in fondo alla stanza è il grandissimo momento io non so dove siete se mi giuro da solo di ok oh dove cazzo è come si fa a mettere l'attaccato? no ecco qua c'è tu zai e come si attacca? è in fondo cioè trascinano non c'è da due opzioni no orca pittà sicuro sicuro ma nico ti sei troppo destemmiare? allora è qua dietro parto proverso veste eh ora prova trascinala proprio sull'icona del nord aspetta i need to empty it it first ho bisogno di riempirlo ma non si può entrare sennò di svuotarlo c'è proprio butto fuori tutto aspetta butto fuori il cibo allora si poi massimo lo ritiro su si che è tutto il mio cibo che se perdo ok oh shit oh my fucking god puoi vedere? oh my fucking god e poi? oh fucking bitches vedete girati che voglio vedere il busone dietro aspetta come cazzo si dice? c'è sul culo? bellissimo c'è sul culo? aspetta devo aumentare il fob c'è il paraculo per proprio aspetta che mi son mosso mi inchina a 90 ma basta aspetta che mi inchino a 90 eeeh qualcosa di antiproiettile guarda che figata nooo sto godendo mi sono messa a pecora ok basta basta dire queste volgarità cazzo adesso finalmente ho posto per un sacco di merda posso però c'è se vedere quanto occupa che alla fine non ho messo 16 16 edici ora però che apporto un sacco come ecco siete adesso arriviamo alberto di cairo c'è la stagia spuglio quanti di un cazzo e cazzo è arrivato allora dove sei cosa vedi ho trovato uno zainetto più grosso finalmente beh se sei... la torre radio la vedi la torre radio la vedi? ma da cazzo la torre radio quella di vetro dai vieni fuori nella pista best vieni fuori in pista tutto salva mezza pratica fra le due piste eh allora corri verso la direzione dovevamo sloggati in fondo in fondo la pista ci sono le tende c'è come se lo vede gli altri saremo gioco giangher non li vedi se hai raggiunto a quelli due isolati che hanno ragione e se io se ti faccio una caserma a colare adesso posso entrarci si controlla best by 2 anga piccoli isolati che con l'altro che cuore verso gli antichi perchè uno corre una direzione dell'altro non c'abbiamo più nessuno non so spalle teoricamente in teoria no se c'è qualcun altro spariamo quindi sto qua davanti a me col bretto pescatore o mi mira non c'è lui è un ragazzo scusa che vedo un po' da una parte l'altro vaffanculo eva fa un po' di sono dei burloni che cazzo sono i vestiti parca la mia testa e salida a farmi stupare dagli zombie mi sono andati tipo 6 e non è preso un cazzo 9 millimetri 25 grammi ho trovato solo i colpi per la pistola io e basta e sto cappello da freddo la macron colpi della macron no non li ho presi non mi ha preso un cazzo poi continua a dirmi che la sua gamba è payfull adesso dopo ti apri la morfina eh? mamma mia sono un figo con sembra un cazzo di mulo che cazzo dove fai con la mia gamba? adesso ti do la morfina vestolino non sembra eh si è fatto più swag nico adesso guarda che bellezza che è nico ho il cappellino nero il basco da gamba? ho detto anch'io il basco nero ho trovato una visiera io sai che potevi metterla? eh vaffanculo io l'ho detto cento volte io caro io che vuole una visiera? io che vuole una visiera? e nessuno che diceva niente ho vaffanculo l'ho abbandonata lì allora a parte di scherzi io andrei a votare a non scommettere se troviamo un camion ma non c'è nulla non c'è nulla io ti assicuro che uno appena è start-up probabilmente dai due scatolette di tonno dai dai via io no non c'ho cibo non ti ho fatto gli spaghetti lui va in giro comunque una cazzo di pianta non mangio non mangio mai niente io senza zaino morirei se c'è sto coso qua che mi penso a dare culo e guarda io dovrei avere io veramente so due settimane su un eremita mangio quel che trovo è sempre così non prenova niente che barbolo porto su munizioni e vendita guardatevi qua comunque è un mezzo gruppone questo ma no no ma loro sono gli antichi templari cioè tu mi hai mai giocato con gli antichi templari? cioè scusa io qua dentro ho gli antichi templari quanti siete? eh manueleita scusami potresti stare in silenzio nel video no ho freddo grande eh ma per me è come un fratello abortito grazie guarda te questo che corre con la tannica in mano e guarda me che sto togando c'è un alce enorme praticamente dove? è una nostra bestia posso cucinarla se volete va se vuoi no vabbè non ho il coltello per scuogliarlo ma ragazzi facciamo aspetta ragazzi facciamo esplodere facciamo esplodere benzinaio dai che loro non l'hanno mai sentito no 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 mi servisola sulla benzina da benzinaio ma tanto non lo trovi il camion no che lo trovo invece comunque andrei in giro con la tannica perché tanto la fine lo trovo no no adesso io faccio esplodere benzinaio cos'è uno zombie là o è qualcosa? no puoi solo riposare il saltinario e muoio dai 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 a massimo tanto sei già morto l'altra volta infatti beh mi sono fatto uccidere da jambu per provare una cosa particolare è fatta una morte stranissima dai siamo pronti? tutela da benzinaio oh c'è un camion arancione qua veramente arancione lo devo vedere devo vedere dove hai trovato sei una brutta merca jambu zarnak c'è zarnak vieni con un attimo zarnak vieni con un attimo fermo non ti muovere cos'è che mi spalmi stavolto sto arrivando no che cazzo mi sta iniettando lì c'è la siringa in mano che tossico no zarnak si è morto ti sto prelevando il sangue adesso ti prelevo io andata la benzina andata la benzina ecco eccolo eccolo guarda che figata guardalo che è che ha sparato? guardalo guardalo surprise me lo fucker entra un ranno surprise me lo fucker cosa? guarda che swag arancione madora ho sempre trovato scuro arancione o no spegno sto motore adesso vai devi riempire qualche cosa un secondo che vado a fare la benzina un secondo ma come si fa la benzina? così chiudetemi il coso aspetta non partire non partire non vedo niente parti parti schiaccia lo jambo che no no voglio prelevare qualcosa a qualcuno mi sai che mi sembra tipo carlo sembra tipo puoi aggiustarlo siccombo aspetta aspetta vi vede come si fa benzina allora si prende la tanica ok schiede la porta perchè la ti ritesta già ma la sicurezza ecco qua ora con la tanica in mano si ti avvicini qui fin canister ora abbiamo la cosa piena qua che ho fatto fin canister ora si va dal bocchettone della benzina da questa parte qua questo sto ferrari cioè c'è il bucone c'è il buco ma davvero puoi fare l'animazione di quando ti benda? no 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 ci vedo malissimo dopo no va bene dai dai ce l'ho stancato no ma che cazzo è la fontana che stronzo porta fuori un attimo questo camion qua facciano saltare benzinaio allora al primo di destra eh si sei tu il primo di destra t'ammazzo no no al primo di destra almeno tre scatenate l'inferno uno due tre adesso non ci andate vicino perchè li esplode eh il camion è a posto spero che porca troia prende portavi al camion vai che mi si spacca tutto avete visto gli fps no no a cazzo no a cazzo vincere ancora 12 c'è un reflusso c'è un reflusso ma speriamo quello di destra risplode ancora andiamo a berezino proprio così a diretti si proprio entrammo in un lago no ma che entri in un lago e si esplode non esplode no dai non voglio almeno vedo che non l'abbiano facciato no dai non ho il mio butto adesso carla non voglio morire in mente dai la casa dai ferma lo ferma lo dai ti porto i vinciti a colla non voglio andare sotto un sistema ma fermatevi dove cazzo andate non lo so sta mi sta uccidendo all'acqua stava accendendo all'acqua stava accendendo all'acqua ti porti in un campo di concentramento aiuto mi sta no Carlo no ti faccio scendere prima vabbè vabbè e tu cosa fai? ci vado sotto sei sicuro? si fidati va bene e cosa cazzo fate? vai 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 piano però eh entra piano entra piano se perdi cazzo no vabbè non dovremmo allora no fammi scendere aspettatemi che arrivo no no non perdiamo niente no ti stupro Carlo ti stupro piano non succede niente aiuto guarda oh mio dio stiamo volando nell'acqua ma non vi vedo più vai adesso riavvi riavviamo vi riviviamo da voi ma dove cazzo siete? non vi vedo più no è figata è anfibio no è pagato questo qua si nasconde sotto quando passa qualcuno sbuchiamo e lo filiamo sotto ma dooo ero tra ecco andate ancora my body feels wet sono bagnato adesso scusa eccolo là davanti a me nico sei proprio e te eccolo davanti a me dai dai andiamo andiamo a raggiungerli si ok faccio mano ora che arriviamo arriviamo body body grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti